Ciao a tutti e benvenuti, benvenuti alla rassegna stampa, la rassegna stampa del giorno dopo, la rassegna stampa del 30 agosto, la rassegna stampa del penultimo giorno di mercato. Devo dire che, credetemi, nella serata di ieri ha avuto il sopravvento il pubblico e la festa di colori, la festa di vita, la festa delle persone rispetto al risultato, credetemi. E questa è la sensazione prevalente. I quotidiani celebrano molto Giroud, i quotidiani parlano di mercato, di moviole e di pagelle. Nelle pagelle ho visto molto alti i voti di, nell'ordine, Giroud, Braindia, Zetonali, ma anche Teo Hernandez è piuttosto alto. Qualcuno attribuisce delle responsabilità a Mignon sul primo gol. Francamente, francamente, mi sembrava molto angolato il colpo di testa di De Iola e francamente mi è sembrato che si sia elongato al massimo Mignon, che poi non ha minimamente accusato l'episodio, tant'è che ha fatto tante belle uscite e ha fatto una bellissima parata su Lico Giannis nel finale. Teo Hernandez e tutti giudicano a questo punto un episodio, la prestazione un po' opaca di Genova contro la Sampdoria. E poi tanto Tonali. Colpa delle favole, scrive Sandro sul suo profilo Instagram. Sì, è vero, Giorgia Tavella che ha condotto su Minan TV il pre e il post partita di Minan Cagliari racconta che nel settore in cui si trovava ha colto tutta l'emozione e forse anche un po' di commozione da parte della compagna di Sandro Tonali, perché ci teneva tantissimo il ragazzo, il ragazzo è veramente uno di noi come cantava la curva e quindi ha coronato un sogno che si portava dietro da tanti, tanti, tanti anni da tifoso. Rassegna stampa, adesso entriamo nel merito, vi ricordo OneFootball che con la sua app vi porta nel mondo degli highlights. OneFootball da quest'anno è la casa del calcio in streaming, OneFootball ha una app assolutamente gratuita che potete scaricare dalla descrizione di questo video, scarico gratuito, app gratuita, fruizione gratuita degli highlights di 12 campionati, tutto questo su OneFootball. Allora, veniamo poi alle moviole. Io sono rimasto abbastanza basito, mi aveva detto qualcosa ieri sera Mario Ielpo, a proposito vi ricordo questa sera su Minan TV l'inferno del lunedì live dalle 21, il nuovo orario di questa stagione dell'inferno del lunedì su Minan TV, il talk del Club Channel Rossonero è le 21, quindi ci vediamo dalle 21 alle 22.30 live su Minan TV. Mario Ielpo mi diceva qualcosa di Salemakers sul primo gol del Minan, il gol di Tonali. La Gazzetta scrive che sarebbe stato da annullare, perché Salemakers disturbava troppo vicino alla palla, alla barriera, eccetera, eccetera, eccetera. Per carità, accetto tutti i rilievi regolamentari, mancherebbe altro. Mi sembra che a tutte le latitudini un gol così sarebbe stato convalidato, quindi era da annullare, cioè fare del gol del Milan di Tonali un caso di scuola, un caso di disquisizioni giuridico-regolamentari in tema arbitrale mi sembra eccessivo, anche perché l'abbiamo vista la partita ieri, abbiamo visto il Milan, l'abbiamo visto con tutto rispetto al Cagliari, il Milan ieri sera avrebbe vinto in ogni caso e comunque la partita. Il Corriere dello Sport va oltre, giudizi molto duri sull'arbitro Serra e su tutti i suoi collaboratori al bar, giudizi molto duri perché era irregolare non solo l'1-0, perché mancava lo spray sul campo, Salemakers, eccetera, ma anche il 2-1, perché secondo il Corriere dello Sport io ho guardato quello, io sono stato attento in telecronaca, chi mi ha ascoltato se ne è accorto, non ho esultato, ho aspettato perché temevo 1-1 il fuorigioco che non c'era, la posizione sta regolare, 2, il fallo di mano, poi ho riguardato e mi sono proprio tranquillizzato, rasserenato, cioè ho preso la palla, ho colpito proprio la parte alta del fondo schiena e basta, credetemi, non ho visto altro quantomeno, Corriere dello Sport scrive che la deviazione è stata di gomito, con giudizi molto duri, con giudizi, io ho visto poi Paolo Casarin, Paolo Casarin per me è Cassazione sempre, sul Corriere della Sera, è volato via su Milan-Cagliari, giusto il rigore, parliamo d'altro, però ho notato sui quotidiani sportivi invece, spesso mi succede che vivo una partita, poi il giorno dopo ne scopro un'altra, o in qualche post partita o sui quotidiani ne scopro un'altra, però devo dire che alla fine Casarin mi ha completamente e totalmente riconciliato e quindi ci teniamo il nostro 4-1, strameritato, netto, indiscutibile, abbiamo avuto un solo attimo di distrazione, abbiamo preso gol, questo ce lo dobbiamo ricordare, anche perché il gol secondo me è nato quando João Pedro si è trovato libero fra le linee, al limite della nostra area di rigore, ha potuto mettere la palla come dove voleva, quindi in quel momento le carte le dava il Cagliari, comandava il Cagliari per non intervenire, era difficile sia per bloccare il colpo di testa di De Iola che per Mignon per provare a rimediare, anche perché De Iola ha potuto mirare, ha potuto metterla angolata la palla di testa e quindi da questo punto di vista mi sembra di poter dire che dobbiamo stare attenti, magari abbiamo avuto qualche disattenzione in più a Genova, non abbiamo preso gol, l'unica che abbiamo avuto col Cagliari abbiamo preso gol, succede. Mercato, la Gazzetta dello Sport insiste molto sulla rottura di Romain Febvre con il Brest e da una possibilità di accordo vicina, oggi leggevo la distanza sembrava essere Milan 10, Brest 15, però sembra che con 12 più 3 si possa colmare, vedremo, vedremo quello che accadrà, seguiremo la giornata di oggi, la giornata di oggi mi sembra decisiva da questo punto di vista, io credo che però se dovessimo riuscire a fare Romain Febvre non ci sia francamente altro, anche perché ieri si parlava di due acquisti, non so se il riferimento fosse a Bakayoko, che non è ancora stato ufficializzato, oppure a Chaka Traoré, il ragazzo del Parma, che arriva ad arricchire la nostra Rosa e che compirà 17 anni a dicembre, ma parte con la primavera, vedremo, vedremo quello che accadrà, ma mi concentrerei onestamente sul francese del Brest e aspetterei notizie da lì. Poi, attualmente, gli ultimi sviluppi di mercato possono essere clamorosi, ma l'esperienza ci insegna che gli ultimi giorni di mercato puoi fare delle cose sulle quali hai seminato, non che ti inventi così all'impronta, quindi vediamo, vediamo quello che succede, vediamo cosa accade e speriamo che possa esserci quell'alternativa Brain Diaz di cui abbiamo sicuramente bisogno. I quotidiani poi si soffermano, anche la gazzetta dello sport, Ibra Giroux, l'applauso di Ibra Giroux, la possibilità di giocare tutti e due. Io vi ridico quello che vi ho detto quest'estate, io sarei felice perché fra un po' inizia il calcio, inizia fra un po' l'autoscontro, inizia fra un po' la giostra impazzita delle parite ogni tre giorni. Io farei la firma ad avere ogni tre giorni o Ibra o Giroux, almeno uno dei due. Poi se ci saranno spezzoni di gara a fare insieme, se ci saranno partite particolari con un calendario particolare, per carità, tutto può essere. Ma io farei la firma oggi ad avere ogni tre giorni uno, almeno uno dei due, disponibile. E questo sarebbe tanta roba. Pensate quanto ieri abbiamo avuto il vice Ibra, che mi sembra qualcosa di più di un vice Ibra, onestamente, lo devo confessare. E pensate cosa sarebbe stato il nostro girone di ritorno dell'anno scorso se l'avessimo avuto. Però, insomma, non è il caso adesso di pensare a queste cose. Pensiamo a noi, pensiamo a chiudere bene il mercato, a recuperare Ibra che sia, a concentrarci poi su Lazio, Liverpool e Juventus. Ciao a tutti, a più tardi.